Torna a Sapori e Mestieri Stile Artigiano, la mostra a mercato di artigianato artistico che avrà luogo alla Spezia in corso Cavour il 24, il 25 e il 26 novembre. La tre giorni è organizzata dalla Compartigianato della Spezia con il patrocinio del Comune Spezzino e ha come obiettivo quello di promuovere le attività artigianali del territorio. Il taglio del nastro è previsto per venerdì 24 novembre alle 17. Le novità di quest'anno per le iniziative ci sarà una casetta deliziosa di Ansel e Gretel dell'Associazione del Borgo Incantato di Volano in collaborazione con i sogni di Benedetta. Saranno proprio a fianco allo stand di Compartigianato, sarà dedicato prettamente ai bambini. Le altre novità, ci sono tante, sono tante le iniziative, quello a cui teniamo particolarmente perché a cura di Compartigianato Donne Imprese è per il 25 che è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Avremo un incontro con una psicologa, una dottoressa che fa parte, che lavora anche con il centro Irene e ci sarà una bella intervista con lei, proprio significativa. Anche quest'anno quindi le vie del centro storico della città saranno invase dai maestri cioccolatieri e pasticceri provenienti dalla Liguria e dalle altre regioni d'Italia che presenteranno le loro specialità e mostreranno al pubblico come si lavora artigianalmente il cioccolato. Ma oltre al cioccolato e ai prodotti di alta pasticceria, la mostra mercato darà un grande spazio all'artigianato Ligure e alle eccellenze del marchio di qualità artigiani in Liguria.